Lancia sceglie il palcoscenico di Ginevra per presentare Ypsilon 30's Anniversary, la nuova serie speciale con cui il marchio celebra una delle storie più longeve del panorama automobilistico. Con quattro generazioni alle spalle e oltre 2,7 milioni di unità vendute in tutta Europa, Ypsilon ha saputo interpretare i desideri della clientela, animando la gamma con molteplici serie speciali dedicate alle tendenze del momento. La gamma dell'unica fashion city car della categoria, che continua ad affascinare con il suo stile sofisticato e la sua classe anticonvenzionale, si arricchisce di una nuova edizione speciale, che sotto il raffinato vestito made in Italy, regala tutta la sostanza di una vettura che offre il meglio sia in termini di emissioni e consumi, sia di comfort. Presente a Ginevra due esemplari della nuova serie speciale 30's Anniversary. Le due vetture esposte sono equipaggiate l'una con il motore a benzina 900 Twin Air da 85 CV e l'altra con il BFU L900 Turbo Twin Air Metano da 80 CV. Lancia Ypsilon 30's Anniversary sarà disponibile nelle concessionari a partire da questo mese. E proprio per celebrare i primi 30 anni di Ypsilon, l'elegante stand Lancia propone al pubblico di Ginevra una mostra multimediale, che grazie a smartphone multilingua e una galleria di immagini, racconta in un affascinante viaggio le tre generazioni precedenti dell'attuale Lancia Ypsilon. Su alcuni schermi verranno trasmessi gli spot che hanno fatto la storia della comunicazione Lancia, ripercorrendo 30 anni di unicità, temperamento e testimonial d'eccezione. E sotto i riflettori di Ginevra non può mancare la top di gamma L, l'esclusiva serie speciale nata dalla rinnovata partnership con il magazine L, punto di riferimento per il pubblico femminile che vuole conoscere le anticipazioni ed i nuovi trend del mondo della moda, dello stile e del benessere. La raffinata Ypsilon L è esposta a livrea bianco tristrato glacé, impreziosita da cerchi lega da 16 pollici diamantati, specifica grafica piede pull L sui montanti e particolari in cromo bronito quali maniglie, cornice fendinebbia, calandra e loghi Ypsilon e Dell.